18 sindaci del centrodestra della provincia di Teramo chiedono le dimissioni del sindaco di Teramo Gian Guido D'Alberto da presidente del Lanci a Abruzzo dopo che lo stesso ha deciso di mantenere chiuse le scuole. Lei come replica? Cosa c'entra Lanci? Non c'entra assolutamente nulla. È una polemica tutta politica, pretestuosa e legata ad alcune parti del centrodestra Teramo. È una richiesta politica che non ha nulla a che vedere con Lanci perché non c'entra nulla con l'aspetto istituzionale, anche perché la decisione che ho assunto qualche giorno fa in merito alle scuole è una decisione come sindaco della città di Teramo e volutamente non ho inserito la discussione, il dibattito all'interno dell'Associazione Nazionale dei Comuni proprio perché non volevo in alcun modo politicizzare la discussione. Il presidente Marsiglio l'ha definita ipocrita? Il presidente Marsiglio sta giocando una partita tutta sua politica, tanto non si deve permettere di fare delle valutazioni su una scelta che il sindaco di Teramo fa nel suo territorio, nel pieno rispetto di criteri sanitari, nel pieno rispetto della legge e del principio di questo tempo. Si deve tutelare sulla base delle valutazioni del Comitato Tecnico Scientifico nazionale, sulla base delle quali poi vengono emanate le ordinanze del Ministero della Salute, i nostri ragazzi e il mondo della scuola. Ho voluto, proprio per evitare che ciò si potesse ripercuotere nel mondo della scuola, di tirare fuori la comunità scolastica, i nostri ragazzi da questo conflitto istituzionale che si è determinato e rispetto al quale io ho invitato più volte il presidente Marsiglio di sedersi intorno a un tavolo e di uscire fuori da questa situazione evitando conflitti di carattere politico e cercando nel pieno rispetto della legge e del principio di dare collaborazione di uscire da questa interlocuzione di scontro con il governo che non fa bene a nessuno e di certo non va bene questa incertezza ai cittadini abruzzesi e soprattutto ai nostri ragazzi. Ho, come presidente Anci, istituzionalmente, fin da subito espresso la mia opinione tecnica sull'ordinanza, quindi non ho messo in discussione la sua vigenza comunicandola anche ai sindaci ma ho sempre mantenuto una posizione molto diversa sulle scuole fin dalle prime ore e ho valutato nel rispetto del principio di precauzione, tutela della salute dei nostri ragazzi la decisione più corretta da assumere in attesa che il Comitato Tecnico Scientifico definisca e certifichi la situazione sanitaria del nostro territorio con una ragionevole, giusta, corretta, motivata distinzione tra situazioni, la situazione relativa alle attività commerciali e quella relativa alle scuole a fronte di un'ordinanza che, per quanto, ripeto, non conforme alla legge, era ed è comunque vigente fin tanto che non venga sospesa o comunque, diciamo così, ritirata o altro.